I baristi sono molto innamorati del gelato, amano molto il gelato al caffè, amano anche molto il gelato al cioccolato, il cioccolato con la panna e poi sono molto appassionati anche di gelati alla frutta con la nostra frutta tipica di stagione per coche, fioroni, gelsi, insomma il gelato dell'estate. Nel gelato ci deve essere soprattutto il latte e la panna fresche, devono essere prodotti freschi, devono essere pastorizzati in loco, deve essere un gelato fatto in giornata, un gelato sempre fresco, un gelato che deve girare, che deve garantire una qualità della freschezza soprattutto. Il gelato deve essere soprattutto digeribile, deve avere un'alta digeribilità e questo è legato al fatto che ci siano prodotti freschi dentro, facilmente digeribili e deve essere il gelato poco dolce, poco carico di zuccheri con grassi buoni, grassi buoni significa che ci sia la panna dentro e non ci siano grassi vegetali, idrogenati e grassi strani. Quella è la semplicità e il segreto del gelato. In una frase il gelato è? Il gelato è amore mio. In una frase il gelato è un gelato. In una frase il gelato è un gelato.